Ragazzi sono il piccolo rubi, sono qui per farvi la recensione singola di un libro che poi rivedrete sia nel recap delle letture che in altri confronti eccetera eccetera Il romanzo in questione è stato un caso editoriale ma sebbene io abbia dato tre stelle il libro non è che mi abbia convinto più di tanto E' stato il caso editoriale dell'anno secondo l'Undertime, mi stato parlando di Wanda di R.J. Palasio O io ho la versione Kingdom, quella lì, cioè ebook, quelle offerte lampo che ti fa l'Amazon Ecco stranamente io ci avevo due lire e quindi l'ho comprato Allora cose che non mi sono piaciute di questo libro Innanzitutto c'è un buonismo che attraversa tutto il libro dal inizio alla fine Soprattutto nei capitoli o nelle parti dove sono rivolti agli altri Che sinceramente è molto fastidioso perché quando si parla di queste tematiche Quindi del bullismo, della discriminazione, della diversità e quant'altro Tra parentesi diversità poi è un termine usato e preso per i capelli Non vorrei che nessuno si offendesse Chiusa parentesi Comunque è una sorta di buonismo, una sorta di falsità E' come se la realtà venisse un po' falsata Perché comunque nei libri tutto deve andare bene Sinceramente io su questo punto di vista non sono particolarmente d'accordo Se volete leggere un bel libro che tratta di questa tematica Ed è veramente molto realistico e molto crudo Vi consiglio Melody E' veramente un bel libro quello Allora Qui le problematiche sono tante Innanzitutto abbiamo una sorella che sinceramente io non l'ho capita e non l'ho compresa Ed è poco reale Perché un adolescente che è stata messa all'angolo Tra virgolette Perché il fratello aveva più esigenze di lei Come minimo doveva fare una scenata ogni tre minuti Invece c'è questa ragazzina comprensiva Che litiga con la madre Però poi alla fine volemose bene e quant'altro Io sinceramente questa cosa l'ho trovata poco credibile Che una ragazzina di 15-16 anni Comunque che va al liceo Che vuole ritagliarsi dei momenti con la madre per leggersi un libro O no per leggersi un libro scusate Per guardare un film debba correre dal fratello E sia così comprensiva Assolutamente no Cioè io mi rifiuto di credere Tu puoi comprendere una volta due o tre Però voglio dire quando da parte tua Secondo te ti manca l'affetto dei genitori O l'attenzione dei genitori Secondo me ti metti a fare una scenata I genitori sono delle persone abbastanza controverse Dalla parte c'è la madre che è veramente insopportabile Sta sempre col fiato sul collo E non permette all'Ogi Che ha un nome Di crescere Perché lo tengono sotto una campana di vetro Ogi ha sempre studiato a casa Perché comunque ha una malformazione Non si riesce a capire bene che cosa abbia E lo vogliono appunto tenere in casa Proprio per la paura di affrontare il mondo Però se tu stai sempre in casa Come vuoi che tuo figlio possa affrontare il mondo Possa comunque farsi le ossa Possa comunque farsi un carattere E secondo me il fatto che Ogi sia sempre stato in casa Abbia studiato in casa eccetera eccetera Non ha temprato il suo carattere Perché comunque vediamo sì Ogi Che è offeso da questi insulti Del fatto che non si sente diversa e quant'altro Però non fa nulla per reagire Mentre se Ogi avesse proprio affrontato la realtà dal primo momento Io credo che avrebbe il suo carattere Gli sarebbe stato temprato Avrebbe un minimo reagito Ma non vediamo niente di tutto questo Proprio perché la colpa è dei genitori Che vogliono tenerlo sotto una campana di vetro E a un certo punto decidono di andare a scuola Però secondo me è troppo tardi Cioè era una cosa che doveva essere fatta Comunque a monte Cioè non toglie che il libro sottolinea il fatto Che la società è abbastanza ignorante La società si basa solamente sull'aspetto fisico Ha un atteggiamento di pietà nei tuoi confronti Soprattutto il preside che andava proprio scarnificato vivo Perché è uno dei personaggi più irritanti che abbia mai fatto Solo ma anche l'amico Cioè la mamma del suo amico È veramente da togliere la patria potestà Proprio dimostra il fatto che Se la società non riesce in qualche modo Ad accettare le varie diversità La colpa sta sia nella scuola che nella famiglia Che dovrebbero in qualche modo educare Se a me fosse stato detto Diventa amico di quella persona Perché è poverino, non ha soldi O diventa amico di quella persona Perché è poverino, non ha amici o quant'altro Cioè assolutamente no L'amicizia non si basa sul fatto che io ti devo far pietà Che io ti devo impietosire Che tu devi essere mosso a compassione come il buon samaritano L'amicizia si basa su altre cose L'amicizia è un sentimento che non può essere basato sulla pietà E quindi il grande errore che viene evidenziato in questo libro È proprio quello che la società non riesce a comprendere l'altro Perché innanzitutto c'è una grandissima ignoranza Non c'è educazione sia nelle scuole che nelle famiglie Non c'è voglia di informarsi E non c'è neanche la voglia di conoscere le situazioni diverse Perché abbiamo dei pregiudizi Perché abbiamo una società dove si appare belli E se non si rientra in determinati canoni Allora non sei nessuno Ecco insomma quindi il romanzo nonostante queste pecche Riesce bene ad evidenziare questa cosa Però il grande problema di questo romanzo Secondo me sta nella parte finale Che è veramente imbarazzante Scusatemi ma io il finale così buonista Così dal Oh Ogi diamogli una bella pacca sulla spalla Sinceramente no Perché il finale è molto molto imbarazzante Scusatemi ma io non ho retto ad un finale del genere Il finale doveva essere che Ogi finalmente è arrivato ad avere una conquista della propria vita Che sta nel farsi accettare dagli altri A far capire agli altri che comunque la diversità non è una cosa che deve spaventare Ma la diversità comunque è una ricchezza Che lui in qualche modo è riuscito ad uscire dal guscio Ed è riuscito finalmente a trovare una strada nel mondo Queste sono le conquiste di Ogi Non un finale da vabbè la pacca sulla spalla Ah Ogi ha fatto questa cosa quindi diamogli facciamogli un applauso Cioè non è una cosa che sta in piedi sinceramente Non è una cosa che io accetto un finale del genere Perché sta proprio nel fatto di avere pietà di questa persona Quindi io ti do il tuo momento di gloria 105 minuti di gloria e ciao Ora non voglio fare spoiler Però alla fine lui avrà il suo momento di gloria Eccetera eccetera Sì ma il suo momento di gloria non ha una motivazione valida La motivazione è vabbè dai povero Ogi di qua di là facciamolo sentire in questo modo Come gli altri Ma non è così che tu fai sentire una persona integrata in una società O in un gruppo o quello che volete voi La fai sentire secondo me in imbarazzo La fai sentire come un fenomeno da baraccone Cioè come se prendi uno con due teste E gli dice ah vabbè quello con due teste Però è di qua e di là Cioè prendere e ridicolizzare qualcuno Quindi il finale è stato veramente urticante Io non capisco come si sia arrivati a questo finale Che comunque il romanzo parte bene Il romanzo comunque è interessante Ci fa capire anche il punto di vista di Ogi Gli altri punti di vista comunque sono abbastanza buonisti Come vi ho appena detto prima Però il punto di vista di Ogi comunque è interessante Perché ci fa capire lui che cosa prova Che lui sta male a doversi confrontare con questa società e quant'altro Rovinare tanto lavoro Sinceramente Sinceramente no Perché il finale doveva essere totalmente diverso Cosa che non è il finale di Melody Questo romanzo che vi consiglio di leggere Vi lascerò alle censure da qualche parte Lì c'è veramente del realismo Lì non c'è del buonismo Sì vabbè poi alla fine la povera Melody Diamoli il contentino Del visto che lo felice e contenti Assolutamente no Perché la vita purtroppo è così Cioè si incontrerà sempre della gente ignorante Si incontrerà sempre della gente che ti discrimina E quant'altro Quindi nonostante il mio voto sia stato positivo Perché tutto sommato mi è piaciuto Ha una scrittura veramente Veramente fresca Leggera E l'ho finito in due o tre giorni Il finale proprio no Quindi non sono riuscito veramente a capire questo atteggiamento Sulla parte finale Che poteva essere risparmiato Bene Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Io con la canotta sto sudando tantissimo Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo romanzo Se vi è piaciuto o non vi è piaciuto Fatemi sapere tante cose belle Io vi saluto e vi rimando al prossimo video Ciao Ciao